Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale! Quello che vedete tra le mie mani è un pacco molto importante, a discapito delle sue dimensioni ridotte. Dovete sapere che contiene 4 lattine leggendari, ma con la L maiuscola. Quando il caro amico Alex sa fornirmi delle lattine c'è sempre da stupirsi. Ogni volta trova sempre qualcosa di nuovo e soprattutto di raro, di esotico. Mi raccomando, non esitate a seguirlo, vi lascio in descrizione il link alla sua pagina Instagram. Quindi correte subito perché ha delle lattine allucinanti! Ragazzi, è finalmente giunto il momento di aprire questo pacco a forma di parallelepipedo rombolle. Chissà cosa si c'era al suo interno. Ragazzi, cosa abbiamo qui? 4 leggende che già si possono intravedere. Partiremo dalla più snella, dalla meno rara, come al solito. Dentro questo cilindro si cela una Rehab Green. Nel suo vecchio design, ragazzi, questo è il primo design della Rehab Green T. Ovviamente io possiedo la versione definitiva, l'ultima versione della Rehab Green, poi scomparsa a seguito dell'uscita delle Recover. Però ragazzi, questa è la Hydrate, il primo design che finalmente completa il mio set delle Rehab. La desideravo da tanto tanto tempo, era da più di un anno, ragazzi, che la cercavo. Da altre tanto tempo, quasi, cercavo lei. La Min Bin, questa Yava veramente strepitosa. Anche lei è stupenda, ragazzi, veramente una lattina strepitosa. Questa qui, tra quelle che abbiamo, è forse la meno rara, ragazzi. Questa è veramente molto bella, è un design che mi piace, un design spaziale. La mettiamo subito qui. E adesso passiamo alla prossima. Anche lei, una Yava Old che già conoscerete, la Kona Blend. Ovviamente poi le vedremo bene nel dettaglio e le confronteremo tutte con le versioni definitive. Partendo dall'Area Hub fino a tutte le altre che vedremo in questo video. Molto molto bella, non ve la spoiler, o la lascio qui. E la più rara di tutte, questa arriva a costare 40 euro. La versione normale, già la si trova intorno ai 13-15, perché sta sparendo dal commercio. Ebbene, Vanilla Light, ragazzi. Vanilla Light, primo design molto molto rara, molto molto bella, bianca, così è stupenda. Devo essere sincero, le versioni old non solo fanno tanta gola, ma sono veramente stupende. Hanno un design esplosivo, ragazzi, veramente esplosivo. Che dire quindi, ragazzi, abbiamo qui quattro lattine leggendare, ma sappiate che questo è solo l'antipasto all'arrivo di un nuovo spettacolo su questo canale. Delle leggende che visioneremo una ad una e confronteremo. Quindi ragazzi, super sintonizzati per non perdervi i confronti professionali. Io concludo qui il video, ringrazio di cuore il caro Alex per avermi fornito queste bombe esplosive. che mi aiutano a completare i set mancanti. Detto ciò, io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao! Ciao! Autore dei sottotitoli a cura di QTSS